Commercianti uniti per una causa comune, far riscoprire a residenti e non la loro città. Il sodalizio si chiama appunto Voghera da scoprire e nel giro di pochi mesi ha già raccolto l'adesione di un'ottantina fra commercianti di ogni categoria merciologica, dai casalinghi ai bed and breakfast, dall'artigianato all'abbigliamento. L'obiettivo finale, e cioè combattere lo strapotere di centri commerciali e colossi dell'e-commerce, potrebbe apparire fin troppo ambizioso, considerate anche le politiche locali e nazionali che non hanno certo favorito i negozi di vicinato negli ultimi decenni. Ma secondo Maria Teresa Figini, presidente della neonata associazione e titolare di uno storico negozio di Via Scarabelli, un importante traguardo è già stato raggiunto, quello di conoscersi e di condividere aspettative risorse. Certo, è un problema che non è soltanto di Voghera, ecco, assolutamente. A Voghera forse un po' di più perché c'è stato un po' uno svuotamento di quelli che sono i negozi del centro e forse la gente non trova più attrattiva il discorso di venire poi a fare la vasca in Via Emilia come una volta o il passeggio a vedere i negozi e fare shopping e quindi l'idea nostra era proprio quella di riabituare la gente a vivere la propria città. Allora io ho notato tanto entusiasmo che non mi aspettavo. Tra di noi ci si parla, ecco, ci si scambiano le opinioni, insomma, e questa è la cosa secondo me già positiva di per sé. Commercianti, esercenti, artigiani, ambulanti e chi più ne ha ne metta, ogni categoria o microcategoria ha la sua associazione di riferimento, più o meno radicata in città. Queste però, spiega la Presidente, hanno un ruolo diverso dal nostro, più amministrativo e burocratico. Noi non vogliamo sostituirci a loro, dice, ma essere un'iniezione di energia per il settore e così dopo gli eventi di Natale, fra sfilate, promozioni e fotografie, a breve i commercianti si ritroveranno per discutere delle prossime iniziative che, precisa la Presidente, a scanso di ogni equivoco, non hanno nulla a che vedere con le elezioni comunali ormai alle porte. Voghera deve essere pulita, sicura, si deve poter girare per le strade senza aver paura e cose di questo genere e devono magari comunque ascoltare anche le esigenze, ma non soltanto dei commercianti, ma anche dei singoli cittadini, perché comunque Voghera non è solo dei commercianti.